Ciao! Vi ricordo che questo canale è sponsorizzato da Potown Store, sito numero uno per l'acquisto di codici Pokémon per il gioco online. Sempre aggiornato, sicuro e veloce. I codici vi arriveranno subito via mail. Inoltre, con il codice sconto Riccabrotz avrete uno sconto del 5% su tutti gli acquisti. Cosa aspettate? Ciao gru e benvenuti in questo nuovo video, io sono Ricc e oggi siamo ritornati qua con un deck Flaiote. Si è tenuto un torneo veramente gigiante in Nord Ameria, se non sbaglio è in Nike, non con delle scarpe e a spuntarla è stato Azul. Ora per chi non lo conoscesse, Azul è un content creator e ovviamente gioca anche competitivo e ha tirato fuori questo mazzo veramente briao. Ora, prima di farvi vedere la lista la trovate in descrizione, ma mi raccomando lasciate un bel mi piace. Pikachu Volo VMAX, questo panzone o palloncini, fa 160 danni e previene tutti i danni dai Pokémon base. Quindi in questa maniera andiamo a bloccare magari, per esempio un Regidrago lo schiantiamo, attacchi da primi turni con Pokémon V li blocchiamo, poi magari un VMAX o un VSTAR lo subiamo, però comunque quantomeno finché non lo evolve non subiamo danno. Pikachu Volo attacca con 3 energie, quindi per caricarlo c'è bisogno di un po' di cattiveria. Questa cattiveria ce la dà Arceus V-Astro, giocato in 4-3 quindi molto fondamentale, che fa 200 danni e carichiamo 3 energie base a un Pokémon V che vogliamo nel modo che preferiamo. E poi vabbè il suo attacco, l'abilità Astronascita ci permette di prendere due carte che vogliamo dal mazzo. Poi abbiamo una linea 1-1 Crobat, Crobat VMAX, qui per andare a ovviare il problema di Mew, nel caso che giocassero Mew VMAX, Crobat VMAX 180 di danno, quindi possiamo fare KPO su Mew VMAX oppure fa 70 avveriene e torna in panca e si gode. Poi come altre carte c'è Bibarel per pescare, Pankaboo per levare la stadio, metti caso che noi ci siamo messi un sentiero biancacima molto aggressivo e quindi non possiamo fare l'abilità di Arceus. Quindi comunque possiamo fare Pankaboo e sentiero. Per andare a ovviare quello che comunque è il problema magari di Mew VMAX possiamo usare una Astr. Durante questo turno i danni degli attacchi dei tuoi Pokémon VMAX non sono influenzati da alcun effetto presente sul Pokémon attivo dell'avversario. Questo vuol dire che con Pikachu Volo posso fare KO un Mew VMAX. Poi ovviamente abbiamo il Blocco Amici quindi ce lo possiamo riprendere. Di solito questa mossa non se l'aspettano di Esther perché quando sanno che io sono loccato e che non riesco ad attaccare lasciano il Mono Mew Tank. Quindi comunque PEM secco e si vince. Laburno, Merry, Boss Order, Petra. Komor ci permette di ritirare un Pokémon di tipo normale se ha dei danni. Quindi comunque ce lo leviamo un po' come se fosse una Malpi. Quattro energie turbo e una cattura, tre buio e quattro elettro. Quindi comunque sarà fondamentale Arceus. Detto questo è il momento di andarci a trovare degli avversari. Primo avversario di oggi siamo contro Agu. Detto Agu contro il mazzo di Azul. Attenzione. Allora innanzitutto complimenti ad Azul che con questo mazzo ha vinto il torneo. Un torneo non semplice con un mazzo fuori di testa. Quindi complimenti e così che si vedono ovviamente i veri giocatori. Allora Pikachu che vola ce l'abbiamo. Panca culo non mi interessa metterlo adesso. E questo gioca Regigi. Quindi comunque il segreto di questo mazzo attualmente è riuscire a settare il Pikachu. Quindi buttiamo Mary. Buttiamo Mary perché tanto me la potrei pescare di Arceus. E si gode uguale. Allora uno. Energia dietro tanto Pikachu ritira gratis. Lo mettiamo davanti. Non dovrebbe farci KO perché deve ritirare Regi. Metterli tutti in campo. Scartare tre energie. Quindi spero vivamente che non ce la faccia. Però mai dire mai. Uno. E ce l'ha con la stadio. Che poi comunque quella stadio mi può tornare utile anche a me perché mi posso prendere i Pikachu. Energia a Uvova. Uno. Due. Scarta l'aurora. Quindi comunque già così non può più attaccare. Portale dei Regigi. Ok. Io adesso sono avanti. Lui se ne mette uno in panca. Però c'ho l'Arceus V-Star. Quindi posso mettermi la doppia. E godere. Ok. Allora questo lo possiamo mettere. Questo lo possiamo onnipresentare. Astro nascita. Ci prendiamo queste due. Questo così. Energia doppia qua. E fare direttamente boss su Regi Ice. Perché Regi Ice non mi piace. Ho un po' paura. Quindi diciamo che essendo quello che un po' rompe i coglioni. Ce lo leviamo così. Una. Due. E tre. A questo punto avendo già Pikachu così. Io non so lui come faccia a vincere adesso. Ultraball. Prende l'altro Regi Ice. E ok. Pesca 4. Il Budrillo. Allora finché non trova Regigi Maestro. Siamo quantomeno a posto. Se riesco a fargli un K.O. a turno. Dove lui è un po' così Briconcello. Si gode. Retino. Retino su questo. Così si può prendere Regigione. Portale dei Regi. Se il Portale dei Regi. Anziché uno ne prendeva due. Era straforte. Comunque abbiamo Esther. Che ci può tornare utile anche contro Regi Ice. Quindi. Questo gli si dà secco. Uno. Due. E basta. Perché ne vuole in teoria. Si vabbè a parte di ne basta una sola elettro. Però me la vorrei tenere nel caso. Pazzie con Crobat. Altro premio. Energia cattura. Molto nice. Potremmo anche quasi settarci il Biba. Il Bibi. Ano normale. Quanti gli ho buttati giù? Due. Ecco lì. Regi Steel. Regi Ice. Energia cattura su Regi Sticchio. Regi. Ecco ora ci arriva una Caterba di danni. Pem. Due. Ottanta. E va bene. Certo è come un amuleto ai glande e si campava. Comunque. Io direi che la partita è molto conclusa. Perché per davvero. Tu non mi devi dire più niente. Io guarda. Bidoff lo prendo. Però se io ti faccio il Dainapallone. A parte farti KO. Ma io rimango immune ai danni dei tuoi amici basici. Energia. Ricerca accademica. Vediamo un po' che cosa ci fa. Lui ci potrebbe attaccare dietro. È il Regi coso? Per l'appunto ci aveva il Regiroc nei premi. Siumoso. Questo è quello che fa 120 e 20 dietro. Bruno Liegi. Bruno Liegi carta molto forte. Perché visto che in teoria si fa un KO a turno in Regi. È forte. È forte. Ti permette proprio di sbloccare sinapsi mentali che prima non avevi. Cintura scelta. Ma tanto non ci può fare danno. Non ci puoi fare danno. Allora 1, 2 e 3. Cavallo a rozza e protezione. Sium. Questo si evolve. Attacchiamo. Non devo fare nulla. Guarda. Per davvero gli do 160 nei denari. E si gode. Signori. Troviamoci un secondo avversario. Secondo avversario. Siamo contro quest. Questo qui è il nostro avversario. Se non si chiamava quest'altro. Abbiamo vinto il lancio della moneta e vogliamo iniziare noi? Direi di sì. Anzi no. No. Perché abbiamo Arceus signori. E infatti partiamo del bidone. Bidoff incredibile. Abbiamo una mano che fa proprio squacquerellare tori e mucche. Lui gioca a 0 ora vu. Non mi chiedere che cosa gioca perché per davvero. Forse vediamo un po' eh. Con questa ultrabol vi saprò dire che cosa gioca. Buio e Arceus. Remored. Boh mi sembra molto un Silveon. Mi sembra molto un Silveon. Intanto qua fuori è tutto nero. Ma c'è il sole. Io non so dove esca il sole se è tutto nero. Penso di essere illuminato dal signore. Allora un altro Bidoff che fa e non lo mette. Allora energia scatturata. Ci prendiamo. L'Arceus. Anziolitico. Mettiamo il sentiero. Perché non vorrei che mettesse altri Pokémon con abilità di cui ignoro l'esistenza. Perché sono uscito un sacco di carte e non vorrei dargli una mano. Gioca Arceus. Ok. Lo gioco anch'io. Ok. Lui per ora non ha energie e io forse ho il tempo di caricarlo. Il Polpo. Con il Polpo sicuramente si può prendere la Torre Acqua. Se proprio gli dà fastidio. Invece energia del Dusliple. E infatti ce l'aveva già in mano. Energia duple. Scelotta. Cinta scelta. Ultrapalla. E ci avrà sicuramente ricerca accademica. Slaveon V. Attenzione. Con Devolezza Acciaio. Vabbè. Dono Onirico. Non so cosa faccia. Mi sembra pesca. Ricerca di energia. Finisce il turno però. Ok. C'è Gusta. E io a questo punto faccio così. Visto che puedo. Faccio così. Non faccio niente. E finisco. Ricerca di energia. Si prende l'Elettro. Giusto per farci questi 100 danni. Ole. Impegno di Ornella. Allora in questo matchup. Noi abbiamo comunque il controllo su 0. Ora tramite Pikachu. E ok. Però per il restante. Non annulliamo niente. Dobbiamo solo riuscire ad attaccare. Mette Silvion. Non ho capito perché. Cioè lui ci poteva fare KO e non l'ha voluto fare. Quindi. Astro nascita. Ci prendiamo. La doppia. E switch. Mi scoccia. Però dobbiamo fare così. Non ho carte aiuto. Che mi aiuti no. Però se io faccio così. Poi faccio Velox. Come on. Ci prendiamo. Questo Pikachu. Ora lui non ha. Non so. Magari se volesse calare un altro Crobat. Però. Nova Triade. Questi 180 danni. Li offre la casa. Allora. Li mettiamo tutti su Pikachu. Ora. Nel caso mi dovesse arrivare un danno. Potrei anche fare premura di Komor. Ora. L'unico guaio. È che questo Pikachu fa 120. E poi. Ci si brilla le bubole. Sevori. Pesca tre. Ma tanto non mi va a levare nulla. Perché ho tre poe. M'ho messi lì. Per davvero. Mette anche Arceus. Ti ne manca uno. Urshifu. Ora. Finché c'è il sentiero. Lui l'abilità di Arceus. Se la sogna. Pikachu. C'è la resistenza lotta. E questo ci piace. Ci riuscisse. Fa tre premi. Ma lui per davvero ha persi i capi. C'è di tutto quello che poteva fare. Mi ha regalato tre premi. Tre premi. Guarda. Ti posso anche regalare Arceus. Con. Con Urshifu. Non lo avrei mai lasciato lì Silvion. C'è più volentieri ti do il polpo. Però vabbè. Contento lui. Contento questo. Noi dopo volendo. Ci sa anche la ricerca accademica. Ci sarebbe una ricerca accademia. Che non faremo. Perché ci fa questa Mary. Ora. Se mi dai il Pikachu. Volo. Coi palloncini all'elio. Si vola. E si flya. Sì. Ce l'ha dato. Ce l'ha dato. E come signori. Doppio evo a Roma. Mi prendo anche i bidone volante. Urshifu. Ok. Con il polpo si prende Urshifu Vmax. Questi artwork li odio. Perché non si capisce un emerito sticchio. 360. E ok. 360. Non l'ho evoluto nel Vmax. Va bene. Allora. Cosa dobbiamo fare noi? Innanzitutto evolvere. Innanzitutto evolvere. Ci prendiamo il Biba. Bello Bibarelloso. Questo di qua. Poi. Evo di Roma. Ci prendiamo il Pikachu volante. Gigante. Che è più grosso di un aeroplano. Questo così. Poi. Se ne pesca di Bibarel. Vediamo se è utile fare anche ricerca accademica. Possiamo evitarcela e fare così. Visto che abbiamo anche l'altro Arceus. Teniamocelo. 160 danni. Non ci può attaccare. Ma tanto c'ha il Vmax. E vediamo un po' che cosa decide di fare. Se ci fa gigare flusso rapido. Ci potrebbe anche danneggiare Arceus e un Bibarel. Oppure fare doppio KO su Bibarel. Scarta due. E prende Arceus. Vastro. Ancora non è riuscito a fare la mossa Vastro. E grazie alla nostra Stadio. Penso che non la farà attualmente. Ottimo così. Ottimo così. L'abilità di Silvion è bloccata. Ci fa Mary. Questa Mary è molto brutta. Perché avevo il Vstarre in mano. Forse ce n'è un altro nel mazzo. No. Però possiamo dargli l'energia. Impegno di Ornella. Carta che comunque boh. Non mi piace per niente. Gigare flusso. Vediamo un po' che cosa ci andrà a colpire. Allora. Ottima scelta. Si è deciso di fare due premi. Però. Io quanto faccio? 160. Lui quanta vita ha? Non basta. Devo fare Mary. Perché si fa 3.20. Devo salvare Arceus. Si. Si. Ultrapalla. 1.2. Dove sei? Bello Dio Bono. Bello Dio Bono. Vale bellezza. Arceus vuastro. Questo di qua. Si ritira. Si fa 180 danni. E si gode. Ok. Vabbè. Questa energia non mi interessa. Dalle per davvero gioco. E ho finito la partita. Bada e premi. Signori. Signori. Questo video può finire qui. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Intanto complimenti ancora ad Azul. Mi dispiace aver fatto queste partite molto veloci. Ma. Sono di fretta. In questi giorni. C'è un po' di. Casini. E. Comunque. Spero di risolvere alla svelta. E. Spero di ritornare a fare dei video un pochino più lunghi. Comunque fa un cardoboia. E non è facile registrare. Comunque. Io vi saluto. Vi ringrazio. Vi mando un salutone. Se siete arrivati fino a qui con il video. Commentate con. O. Azzurro. Ma che t'ha fatto? Noi ci si vede alla prossima. E che Godenz sia con voi.